Prato e poi, ovvero una mostra con la presenza di 25 giovani artisti dal 22 febbraio fino al 5 aprile in via, nello spazio espositivo di via Firenzuola a Prato, proprio nel centro della città. 25 giovani in mostra, da che cosa è nata questa idea? È nata dal grosso fermento culturale che esiste qui a Prato, nell'ambiente giovanile, e quindi dà la possibilità di dare a questi giovani uno spazio espositivo in modo da poter dimostrare il loro fermento. Guarda questo, questo è un esempio, è un lavoro di sei mani, cioè una scrittrice, una fotografa e un pittore. Quindi una comunanza di discipline. La mostra è intitolata Prato e poi, ovvero artisti del domani. Perché e poi? Perché si spera, visto di poter un domani fare una seconda edizione, chiaramente se l'amministrazione comunale è d'accordo. Di giovani ce ne saranno sempre. E spero sempre di più.